Eccoci Clara, buonasera, con me li vedete ci sono i tanti volontari della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Oggi pomeriggio alle 16, poco prima delle 16, in realtà è venuto qui in visita in maniera inaspettata Papa Francesco. Tra poco ci faremo raccontare da loro quello che è accaduto. Prima ci tenevo a ricordare però che fino a domenica, perché come ricordavi tu questa è una delle iniziative nell'ambito della giornata mondiale della povertà, la prima voluta da Papa Francesco e indetta appunto per domenica il 19 novembre, fino a domenica appunto tutti i giorni dalle 9 alle 16 ci sarà questo presidio, presidio solidale sanitario, dove possono venire i più bisognosi, chi non ha la possibilità di pagare una visita specialistica di tasca propria e può effettuarla qui. Qui si possono fare fino a sabato analisi del sangue e fino a domenica visite specialistiche appunto di dermatologia, ginecologia, andrologia, infettivologia e dermatologia. Come c'è Miriam Delprete? Parla in rappresentanza di tutti i volontari e a lei chiedo prima di tutto se vi aspettavate questa visita. In realtà no, magari qualcuno più esperto aveva qualche sentore, ma è stata davvero una sorpresa positiva, bella, emozionante, veramente inaspettata per noi. Che cosa è successo qui, questo pomeriggio? Niente, verso le tre e mezza è arrivata una macchina, una Ford Focus e da lì è sceso il Papa con Monsignor Fisichella e dietro alle nostre spalle. È sceso e ha voluto visitare questo presidio, quindi ha salutato prima i medici che collaborano qui con noi, i giovani, i volontari e poi via via ha visitato tutti, come dicevamo prima, anche gli ambulatori perché c'è la visita dove viene fatta la visita ginecologica e dermatologica e lì ha voluto salutare anche le persone che erano in fila, che erano lì per farsi una visita. Erano tante? Erano tante, in quel momento insomma c'era un po' di gente ed è stato carinissimo perché insomma ha voluto salutare ognuno personalmente, ha voluto sapere cosa veniva fatto, ha visto insomma nello specifico tutti i presidi. Si è fatto anche delle foto con loro? Sì, sì, è stato abbastanza disponibile su questo, ha preso i telefonini, insomma si è fatto dei selfie, quindi era abbastanza a disposizione. C'è un episodio particolare che è successo che mi vuoi raccontare? È stato carino come lui salutando un po' tutte le persone, una signora è andata lì e ha voluto insomma baciargli la mano e via via è passato alle altre. Ripassando la stessa signora si è rifermata e l'ha rifermato di nuovo e lui carino ha sorriso e fa, ma te c'eri anche prima, ti ho riconosciuto. Quindi insomma era anche abbastanza simpatica ecco un episodio. Grazie, grazie Miriam a te e tutti i volontari per il vostro lavoro, grazie per la tua testimonianza. Saluto quindi Miriam e prima invece di salutare voi vi lascio al servizio di Nicola Ferrante perché oggi Papa Francesco ha inviato un messaggio, un messaggio al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Paglia, in cui ha affrontato un tema molto delicato e controverso, quello del fine vita. Sentiamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio.